La ditta Lamberti Vincenzo è un'azienda a conduzione familiare, da oltre 20 anni rivenditore di materiali e attrezzature per l'edilizia. Ditta Vincenzo Lamberti, via Giovanni Cesaro, a Santa Lucia di Cava dei Tirreni. Con la somministrazione del vaccino si prevede, o meglio, si spera in una diminuzione del contagio e quindi nel rallentamento delle misure preventive anti-Covid-19. Tuttavia, non è ancora prevedibile un ritorno alla normalità in tempi brevi. Le celebrazioni in Chiesa sono possibili, ovviamente, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, che già sono di nostra conoscenza, perciò stiamo attenti. Cerchiamo di non comportarci con superficialità, rispettiamo noi stessi e gli altri. Si legge così, nell'introduzione alle note per le celebrazioni e le feste religiose in tempo di pandemia 2021, scritte dall'Arcivescovo Monsignor Orazio Soricelli e diffuse in tutta l'Arcidiocesi di Amalfi Cava dei Tirreni, oltre a raccomandare ai sacerdoti di far rispettare le disposizioni di sicurezza, l'uso delle mascherine, il distanziamento, l'igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura, la comunione eucaristica, preferibilmente sulle mani, il divieto di contatti fisici e assembramenti, l'ingresso e l'uscita contingentate, la sanificazione dei banchi, la reazione degli ambienti, il divieto di usare le acquasantieri e di distribuire materiale se non ce lo fa Nato e con l'uso di guanti, il documento detta le norme per lo svolgimento dei riti. Il battesimo deve essere celebrato fuori della messa e con un numero ristretto di persone, mentre per il sacramento della penitenza o della riconciliazione devono essere scelti luoghi riservati e a distanza. Quanto alle prime comunioni e alle cresime, si chiede che siano celebrati in piccoli gruppi e con più turni, anche fuori delle celebrazioni festive o di orario. La celebrazione dei matrimoni, invece, va rimandata ad estate inoltrata. Per la visita agli ammalati o l'unzione degli infermi a domicilio, occorre che ci sia il consenso o la richiesta della famiglia. La nota chiede di evitare o effettuare su esplicita richiesta la benedizione delle famiglie. I funerali per i defunti Covid non vanno celebrati in chiesa, ma con la benedizione al cimitero o davanti alla chiesa, rinviando a successive celebrazioni più degnitose e sicure. Il catechismo e gli incontri delle associazioni si possono fare anche a distanza, meglio se in presenza, tuttavia, in piccoli gruppi e con tutti gli opportuni accorgimenti. Per le feste religiose sono vietate tutte le processioni e le manifestazioni con assembramenti. Laddove vi è la consitudine è possibile esporre le statue dei santi e portarli all'ingresso della chiesa, ma senza assembramento, con la sola partecipazione del sacerdote, dei ministranti e dei portatori, mentre i fedeli rimangono ai loro posti. L'esposizione del panno, dove c'è questa usanza, è possibile farla, cercando tuttavia modalità e tempi che evitino l'assembramento. Le indicazioni sono in vigore da ieri 19 aprile 2021.